E' tempo di programmazione in casa sancataldese, archiviata l'ennesima salvezza in serie D. A San Cataldo non si fanno proclami, ma la dirigenza sta lavorando lacrimente per alzare l'asticella degli obiettivi, per guardare al futuro con maggiore ottimismo e soprattutto con la consapevolezza di poter interpretare un ruolo di tutto rispetto nel prossimo campionato, al quale parteciperanno diverse società blasonate. Potrebbe esserci anche il nuovo Catania, con chiare mire di vittoria finale, insieme ad Acireale, Licata e Trapani, che vantano notevoli trascorsi in serie B. Da non sottovalutare neppure il Ragusa neopromosso, e alla D guarda anche l'Akragas, giunto alle finali play-off nazionali. Domenica dovrà vedersela l'Esseneto contro il Martina, ritorno sette giorni dopo in terra pugliese. Insomma, la prossima serie D potrebbe rivelarsi tra le più prestigiose degli ultimi anni, e per la San Cataldese, ma soprattutto per la città e i tifosi, potrebbero aprirsi scenari di una certa importanza. Ancora top secret il capitolo allenatore, definita la scelta del tecnico, si potrà fare il punto sull'organico. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, intanto i tifosi sognano una squadra capace di riportare subito il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Valentino Mazzola.